Ferre, l'assistente segreto mi ha detto che ha inventato una nuova tecnologia Ok Per costruire delle case istantaneamente Che lui stesso ha costruito tempo fa E che ci permette di costruirle immediatamente così, con uno schiocco di dita Ma sei sicuro? Velocissimo? L'ha detto lui, ha detto lui Anche questa è stata fatta subito? Sì, a quanto pare sì E dice, l'assistente segreto, secret home Infatti lui ha lasciato una sorta di, diciamo, di suo assistente segreto che dell'assistente segreto È un trip questo, ok Qui per parlarci L'assistente segreto al suo assistente segreto a sua volta Esattamente, esattamente Il miglior costruttore al mondo Questo è per se stesso, però, per l'assistente segreto, vero Ok Comunque, piccola nota Molto modesto Ho visto molta confusione Non ve l'abbiamo mai presentato perché è un ragazzino di 16 anni, americano, che ci fa le mappe Quindi lui non sa parlare bene l'italiano Ogni volta che voi gli scrivete dei commenti Si li traduce con Google Translate per capire cosa gli state dicendo E infatti mi dice sempre I tuoi fan sono troppo dolci, i tuoi fan sono fantastici Perché ogni volta si traduce i messaggi e gli piacciono un sacco Comunque, tornando al video Abbiamo appunto l'assistente segreto dell'assistente segreto Che ci spiegherà come funziona questa nuova tecnologia Che ci dice Ciao, benvenuto nella mia piccola casa E la prima domanda che viene in mente è Perché un costruttore esperto vive in una casa così piccola? Perché effettivamente la casa non è che sia un granché E lui dice Vive in una piccola casa perché sto sperimentando la mia nuova creazione Per me è un sogno che si realizza Che cosa hai creato? Ok Ho creato un macchinario che crea da solo le case Ti basterà piazzare un solo blocco specifico per terra Per vedere comparire una casa enorme a tua scelta Oh mio Dio, la possiamo provare? E certamente, trovate tutto nella cesta Prendete e provate tutto quello che volete Grazie Sempre tutti molto gentili Questa quindi è una bella cosa Questa cesta è piena di roba Allora, da quello che ho capito Queste qua sono tutte delle cose che noi possiamo andare a costruire Ce n'è una a testa se noti C'è una starting house Una villager house Una monster Oh questa mi intriga molto Una welcome center Green house Watchtower Mamma mia Fere sono troppe Ma come facciamo a farle tutte? Non finiremo mai Steph Lo so Non finiremo mai Ma c'è pure un bunker Ma quelle verdi sono le più belle, scusami Secondo me sì Eh, ok Infatti le lasceremo come ultima cosa, secondo me Ok, io ho preso tutto E ho tutto nell'inventario Quindi io adesso non... Cosa devo fare? Perché non è che ci ho spiegato bene No, 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 no È talmente semplice che non c'è bisogno di spiegare Mi chiuso la porta in faccia, Steph Scusami, mi dispiace Ok, lo perdono Allora, scegliamo un posto dove mettere una casa Secondo me Ok Già qua potrebbe andar bene Tanto Sì, dai, sì Non ci interessa che sia tutto bello perfetto Dobbiamo semplicemente provare Eh, sì Starting house Io la metto qua Ok Devi fartela anche tu Quindi allontrati un po' Eh, ma non ho capito che devo fare Tesso destro Vado? Perché praticamente Non è una casa unica Non è una casa unica Perché se tu clicchi basic house Inizia a proporti Ah, ok Ce ne sono diverse Altre costruzioni C'è il ranch Ah, vedi? Questa è la casa che abbiamo appena visto Il ranch L'hobbit style Il desert style La snowy style E poi basta Io voglio fare L'hobbit Ma abbiamo scelto la ste Sì Come sempre Vabbè, falla tu Allora, aspetta No, no, falla tu Io faccio il ranch Ma l'abbiamo già vista Fai l'igloo Hai ragione Fai l'igloo Qualcosa che non abbiamo visto Vai Ok A me non piace molto Ok, Steph L'ho fatta Però È enorme, porca miseria Dov'è? Qui Dov'è? Vengo a vedere la tua Perché la mia non mi interessa neanche Vieni qui su Hai fatto un giro al senso opposto Eh sì, perché se pensavo fosse un albero Invece è la casa Sì, 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 sì Fatemi vedere un po' Vieni qua, entriamo Wow Ok Cioè No, è carina, eh È carina Guarda, ti dirò Come casa base Ah, ma anche un passaggio segreto Vieni, 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 vieni Eh, Fer è lunghissimo Vieni, 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 vieni Lasciamola lì Allora, qui ne abbiamo Ti faccio sapere, Steph Crafting table Fornace Tre chest Messe tutte così in pila Molto carine E letto Però come casa base Ci sta Poi te la vedi Io la reputo anche carina Cioè È proprio carina Guardate Allora, qui sotto Ok, ok C'è uno stanzino con una cesta piena di materiali Ok Come se avessi farmato tutto per scavare qui sotto Capito? Ok, ok, ok Eh, ti dico Io l'adoro Allora Esteticamente fuori è bellissima Dentro è molto minimale Ma fuori è bellissima Ma è carina A me piace, a me piace E l'igloo invece è fatto così Aspetta, Steph Devo risalire È molto lunga la stanza Ha un bel po' di ceste La fornace messa qua Che fa a modo di caminetto Geniale come idea Davvero un bellissimo design Il solito passaggio segreto Un bel po' di cesto Il letto E anche questa Comunque minimale Piccolina Ma è giusto che sia così Qua abbiamo anche una serra Che se notate È al chiuso Credo proprio perché C'è la neve intorno Che è molto carina Ma te però è carina Cioè E non è male E poi ho notato Che tutti hanno il passaggio segreto sotto Ok Ok Bellina Dai bellina Io voglio provare questa Quale? Questa Quale stai provando? Non te la dico Ah aspetta Ne voglio provare anche una Welcome center Voglio fare Allora Vediamo cosa è Welcome center Ok Allora la posso fare Di diversi colori Però non posso scegliere Che cos'è Posso scegliere Soltanto i colori Secondo me Dato che ha a che fare Con i mostri Che colore li diamo Che colore Ma hai visto che puoi vedere La preview Fai preview E lo vedi Prima di costruirla E poi come fai A togliere la preview Non lo so Mi sono intrippata Stefano Io ti odio C'era un tasto Ok io ho fatto Come si fa? Build Ripremi destro Ah ok Cioè io ho costruito Istantaneamente Questa torre enorme E che cosa A parte gli scatti Che sto iniziando ad avere Ovviamente Potrebbe essere problematici No perché stavo costruendo Anch'io Stefano Ho fatto una struttura gigante Anch'io Ok Allora Qua è pieno di chest Ma è quello che penso Sì c'è raga È la classica cosa Che fa spawnare i mob Sì è un Come si dice Una farm di mob Mi sembra Esatto Sì 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 È carino Infatti monster center Vediamo se riesco ad andare A vedere un minimo Tipo qua Ok c'è tutto un marchi Ingegno con la redstone E c'è ovviamente Tutto su Adesso ve lo faccio vedere Per chi non conosce Questo genere di cose E tutto su Ci sarà sicuramente L'acqua che spinge Per far cadere il mob Eccetera eccetera Vediamo se hai ragione Ok Stef Ho fatto anch'io La mia costruzione Poi vieni Sì adesso poi arrivo Vedete C'è l'acqua Che praticamente spinge Ci sono anche I turi cactus Carino dai Almeno è tutto automatico Quindi una figata Che cavolo hai fatto Eh non mi ricordo È tipo village Village center Qualcosa del genere Una sorta di Tipo taverna Un villaggio Di un villaggio Non lo so bene È bellissima È enorme Hai visto Ci sono le cucine Qui sopra qua ci sono Le stanze per dormire Suppongo Noi possiamo costruire Istantaneamente Con un click Una roba così bella No Stef vieni È una sorta di Alberghetto In qualche server rules Vai su ci sono tutte le stanze Da letto È una sorta di locanda Ecco non mi veniva il nome No guardate che bellino No ma guarda sotto Ci sono le cucine Stef Un po' rotte No Questa Per ora è la miglior costruzione Questa è molto carina Miglior costruzione Senza un po' di dubbio Anche se io La casa con Quella di Lobby Te la vorrei davvero Mi aspettavo che Avremmo costruito Delle cose molto semplici Invece sono tanto Perché le poche volte Che abbiamo provato qualcosa Di istantaneo Era sempre bruttino Eh questa è bellissima Questa è bellissima Ok Cosa facciamo come prossima Very good Very good Very good Allora C'è il villager house Che non mi intriga troppo Io la faccio Voglio vedere Io faccio la magic temple Ok Dove sei però? Eh sono ancora dentro Ok Io mi metto qui fuori Spero non sia troppo grande La voglio vedere giusto al volo Perché ormai sono curiosa La voglio vedere tutte Ok Sì Ok 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 Anche qui Sì Case dei villager Più o meno Ah ma sono brutte Guarda Queste qua sono proprio Le case dei villager classiche Guarda E vi fa scegliere Tra tipo 15 forme diverse No Sono tipo 5 forme Stef Non esagerare 15 No Sono tipo 5 Comunque Non sono proprio quelle Che trovi classiche Nei villaggi Però molto minimali Ma ci assomigliano tanto Quindi molto minimali Andiamo su qualcosa di più Particolare Watchtower La devi fare tu? No no Io ho fatto Il magic temple Oh Oh Ma che combinato Stef È molto strano Eh sì che è strano Ok Fammi vedere Carina l'idea Carina l'idea È carina È carina È carina C'è tutto per fare magie Pozioni e così via E la forma raga Dovete metterlo Cioè se vedete una roba del genere Da lontano Dite ma che cos'è sta roba Esatto Esatto No è bello Mi gusta Mi gusta Watchtower Stef Ok E mentre tu fai la watchtower Bella questa Guarda A me ispira questa È di fronte a te Mi dai un po' di carne Che ho fame Grazie Carina 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 Oh poi devi sempre contare È istantanea Poi te la redi come vuoi È una figata Cioè Bellissimo Ci sta Ci sta Ci sta Scalette Classico Bellino Vari punti da cui lanciarsi Mi piace Mi piace Francamente mi piace Ok Poi cosa vuoi fare Ok Io faccio la greenhouse adesso Ok Quindi le metto da parte Quelle che hai fatto tu Ci sta la grande Io faccio il barn Sai che mi sembra il barn Una cupola A me sembrava Eh ma sembra tipo un finile Eh il barn Teoricamente infatti È il finile Però sembrava una cupola da lì Uuu È una serra Vado io Sto per fare casino Vai Non so dove sei Va bene Dove sei finito Stef Va bene Va bene così Una serra enorme E questo style Con le luci qua Il vetro E l'acqua Strutturato perfetto Per avere tutto bagnato Bello raga È davvero davvero bello Che cavolo non ti trovavo Davvero 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 bello Bellina Sono sempre abbastanza semplici Ma fighi Cioè pensate Fare una serie Dove voi partite Con tutte queste robe E poi gli date i dettagli E vi fate tutto il villaggio Ok no Mi serve tanto spazio Stef Verena sta per fare qualcosa di abnorme Vieni qua Vieni Qui alla mia destra Vedi qua è pieno di spazio Dove? Guarda che bella Che bella pianura Aspetta ti ho perso di nuovo Ma sei una persona orribile Vai dritta Ok È molto grande Quindi vado Ho visto il preview No Carina Stravello Ho incastrato gli animali sottoterra Scusate Non volevo Aspetta Se gli dai una spintina Tornano su Quindi va bene Ok Bella anche questa Ciao piccole mucche Ciao piccole mucche Non fate versi strani Carino 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 Perché gli manca sempre un po' di carattere Ma sono anche bellissime Sono bellissime Quindi basterebbe Puoi dargli qualche tocchetto In una serie Ma certo Perché poi te le vai ad arredare tu E li diventano bellissime Che stai provando Il bunker O no Sì Ah è Sì Lo volevo proprio fare No frega Questo lo dobbiamo usare Sì Questo lo dobbiamo usare Sono d'accordo Cioè va usato in un video Sì Bellissimo Che figata Anche se poi non è proprio un bunker Perché il bunker dovrebbe essere sotterraneo È più una base È una base È perfetta per fare tipo contro le invasioni Dovremmo usarla Vero È molto bella Guarda puoi anche salire di sopra Quindi avere visione di tutto quello che succede Sì Bella questa cavola Sì Eh sì 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 Guarda che belle tutte le costruzioni che abbiamo fatto Ti giri intorno Ma questa roba è di 1.12.2 Fere Che cosa? Questo trucchetto qua Perché non l'avevo mai visto Sì penso proprio di sì Molto bello Molto molto bello Quindi sì Allora a questo punto Ci mancano Voglio fare io Stef Ci manca La mineshaft entrance La moderate house E poi Le tre verdi Moderate house Vado Ok Vediamo che cos'è Ok Cercando un bel posto Qua è tutto Moderate house Vorrà dire una casa Abbastanza grande Vedi Vedi No vabbè What Vai No Stef Devi far vedere la preview No 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 Fai vedere tutti i tipi di case che ci sono Ah Perché sono paurose Non lo so quale scegliere Ah Cioè guarda Ah No non la preview Tu hai detto la preview eh I tipi di case ti ho detto Tu hai detto la preview Vai Allora Spruce Bella Mi piace già Acacia Bella Bellissima Orribile Io vado di quella Non facciamone due Abbiamo fatte due No Ok Che figata Scegli un'altra tu Perché ovviamente il progetto si consuma Non è poco Che bella Fai quella di acacia Ma guarda Che figata Eh ragazzi Guardatela dall'alto Wow Bellissima Cavolo Bellissima Bella 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 Mi piace un botto Mi piace davvero 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 un botto Allora La caccia era bella Quella E vabbè Steph io sono in alto Ma la godo dall'alto Dov'è? A parte la costruzione istantanea ragazzi È spettacolare No Steph A me è un tipo di legna Che piace un botto la caccia Perché a me piace molto L'adoro Quindi una casa dedicata a quello Con pure una forestina di acacia La reputo Fighissima Steph la casa sull'albero qui sopra è adorabile Sì Troppo carina Mi fa piacere Dovresti poi venire a vedere Guardate anche sotto Vabbè Fede ti danno uno stanzone vuoto Sotto Che è una figata Bellissima Aspetta che arrivo da te Vediamo invece poi sopra Ok Ok sopra È una mansarda Sì Sì E poi te la redi infatti Come ti pare Bella Da fuori è bellissima Molto molto figa Molto 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 figa Mi piace un botto Allora io a questo punto Vado Di una verde Ed è Sai che cos'è? Cos'è? La fabbrica per i polli Ok Allora io faccio la stalla Aspetta Ok Mi hai fatto scatare Ovviamente E qui a fianco La stalla È abnorme immagino Eh sì Questa è l'advanced Della stalla Vero? Sì E infatti E infatti Cioè guardate Abbiamo gli stanzini Per tutti gli animali Bellissimo E facciamo anche l'altra Advanced Warhouse Vediamo che cosa È anche abnorme È molto grande Ok Allora Fede sta per fare qualcosa di enorme Che ci farà esplodere tutto Allora si può scegliere il colore del vetro Quindi consigli Preparatevi alla fine Preparatevi alla fine Questi li ha usati appunto Fede E a questo punto Manca soltanto Questa Qua si poteva scegliere il colore del vetro Guarda E che cos'è un magazzino? Advanced Warhouse Mi diceva Sì Warhouse è un magazzino Però è chiuso Sì è tutto chiuso Ci sono dimenticati No forse come ti ha preso l'altezza Non ha preso i bottoni Sì anche secondo me Vabbè guarda Però è bella Tanto ho un picconetto Ok A posto Ma magari dovevi entrare dall'entrata Stef L'entrata era dall'altra parte E vabbè guarda È un magazzino Sì Che figo però come magazzino Molto È enorme guardate Sì Poi sopra ci sono le librerie Molto bello Bello Molto chicoso Mi piace Ok ci manca la mineshaft Esatto Che ho io Vado? Vai Dove dove vuoi farla? Qui sotto Perché? Boh Essendo Teoricamente Qualcosa che ha a che fare Ok Ma che schifo Abbiamo lasciato per ultimo lo schifo Ma mineshaft Ah Vabbè Però c'è da dire Che se devi andare in miniera A raccogliere i minerali Ci sta Mi ha avalenato? Chi mi ha avalenato? Scappa Ah il maledetto Maledetto Chiudiamoci in casa Nella nostra mineshaft Steph Dicevo che comunque Se devi raccogliere i minerali È un punto carino di ritrovo No a me Non mi fa scappare Oh no Ci sta Aspetta Che noia Ma che puoi arrovinarti? Già siamo stati delusi Dall'ultima costruzione Che abbiamo lasciato per l'ultima E invece Era brutta Ci manchi solo tu A rompere le scato E alla fine video E muori E che cavolo Ok Ora va meglio Questo di morire di veleno Sono più sicuro No Ferre Tieni un po' di cibo Mangia 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 In ogni caso Costruzioni davvero fantastiche Speriamo che il video vi sia piaciuto Davvero valuteremo Se utilizzare queste costruzioni In altri video Perché secondo me Meritano E si potrebbero sfruttare In altri video Speriamo che il video vi sia piaciuto Nel caso un sacco di likes Eccetera eccetera E ci fermiamo Così Ciao ciao